Previsioni del tempo per martedì 21 settembre su Puglia Basilicata e Molise. Situazione generale. L'alta pressione rimarrà ancora debole, favorendo così l'ingresso di correnti lievemente umide. Giornata nel complesso parzialmente soleggiata, ma con cieli spesso offuscati dal transito di nuvolosità. Temperature minime in lieve diminuzione, massime e stabili o in contenuta ascesa. Venti deboli moderati settentrionali, mari mossi o molto mossi i bacini esposti. Vediamo ora le previsioni sulla Puglia. Giornata caratterizzata dalla presenza di bel tempo, con clima gradevole e nel corso del pomeriggio i nocui annuvolamenti si formeranno su gran parte del territorio pugliese. Temperature minime in lieve diminuzione, massime e stabili o in contenuta ascesa. Venti deboli moderati settentrionali con rinforzi sul Salento, mari mossi o molto mossi i bacini esposti. Grazie per la visione!